La storia americana Anastasia in Italia per lanciare il nuovo video Take This Chance racconta la sua carriera e i suoi sogni d'artista. L'ha incontrata Leonardo Metalli. Sono Sara Forrest, ho chiesto per Halle. Pronti, partenza, via! Che cosa vedi se guardi indietro nella tua musica? 15 anni? Ho fatto un percorso in cui mi sento comunque fiera anche di tutti gli errori che ho fatto e di tutte le contraddizioni che ho attraversato. Per cui anche i miei fan che mi seguono da 15 anni e che stanno crescendo si può mostrare il proprio lato vulnerabile ed essere onesti. E' bello che io sono... Onestasia! Qual è l'artista italiano che vorresti dopo Imodà come partner? Lara Borsini, come to me baby, yeah baby Hai paura per questi atti di terrorismo, le cose che sono accadute a Parigi? No, non mi impaurisce. Sicuramente mi era trista. Io sono molto vicina alle famiglie, dei sentimenti che sono molto simili a quelli dell'11 settembre quando io vivevo a New York e ho assistito a una simile tragedia. Tutta questa negatività mi fa solo venire più voglia di essere positiva. Tutta questa negatività mi fa solo venire più voglia di essere positiva.